A loro sì e a noi no. Secondo Andrea Romiti, presidente dell'Associazione Genitori Sindrome di Williams, l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani utilizza due pesi e due misure diverse per rilasciare permessi. Romiti dal 2005 organizza nel mese di giugno una manifestazione psicoterapeuta a carattere nazionale denominata Vivere il mare. Durante sette giorni dedicati all'evento che ottiene il contributo dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e dall'istituto nazionale per la ricerca scientifica, una delle iniziative si svolgeva in piazza 20 Settembre dove i ragazzi potevano provare l'emozione di salire a bordo di autodiluxo. Quest'anno però le cose sono andate in modo diverso e le autorizzazioni sono state date solo ad altri club. Da quattro anni a questa parte il club Ferrari di Pesaro è intervenuto nella nostra manifestazione dando un momento ludico a questi ragazzi per un paio d'ore in una serata di fargli fare un giro per Fano a bordo di queste bellissime vetture. Senza dar fastidio a nessuno, anche i commercianti stessi erano tutti molto contenti perché vuole non vuole il nostro piccolo abbiamo portato sempre oltre 100 persone. Mi è stato mandato dire che tutte le manifestazioni all'interno della piazza 20 Settembre motoristiche non si facevano, non si sarebbero fatte, tranne quella del 6 agosto delle macchine d'epoca perché l'anno scorso era risultata una manifestazione bellissima. Adesso io vorrei sapere se questi signori sono in grado di dire quale è quella bella, quella è quella brutta. E questa poi tra l'altro non è stata l'unica? Non è stata neanche l'unica perché io posso portare a documentazione foto di un raduno di Fiat 850, sempre in piazza 20 Settembre, sempre quest'anno. Ritorniamo indietro nel tempo, commenta Romiti che esprime la sua opinione. Le associazioni politicamente ed economicamente più forti riescono ad avere ciò che vogliono, dice, quelle invece che come noi mettono in evidenza gli aspetti problematici di persone diversamente abili ottengono poco o nulla. Qui chiedo che il signor sindaco Massimo Seri intervenga verso l'assessore di competenza di queste cose, si faccia dare una spiegazione perché ci sono questi due pesi, due misure. Grazie. Grazie.